ciao amico amica dell'ariete benvenuto benvenuta questa è la lucerna di cronos e questo è il tuo video per il mese di settembre come sai al passaggio fra un mese e l'altro realizzo 12 video un po più brevi dedicati ai 12 segni zodiacali bene oggi vedremo che cosa porta il mese di settembre per te che ha il segno solare o l'ascendente in ariete che cosa porta il mese di settembre per colui o colei che ha il segno solare o l'ascendente in ariete la giustizia a taglio mazzo caspita che carta importante una carta di nutrimento una carta di riequilibrio una carta che ti dice che è il momento anche di scegliere di prendere una decisione che riporti un po la tua vita in un equilibrio in un cammino che ti dia il senso di equità più per te stesso per te stessa ma anche per le persone che hai attorno è una carta che può far riferimento anche proprio alla giustizia nel caso tu stia attendendo magari l'esito di una consultazione legale oppure magari un contratto oppure quella che è una compravendita una carta in questo caso molto pragmatica e volge a tuo favore inoltre può essere una carta che parla di un fidanzamento dell'avvio di una relazione la giustizia è sempre il nutrirsi o il nutrire le persone attorno a noi ma anche le situazioni quindi può essere una carta che ci parla appunto della nascita di una relazione o del consolidamento di una relazione ma anche di un'amicizia dell'avvicinanza con qualcuno o del ritrovare se stessi in questo senso il nutrimento della giustizia si esprime anche con ciò che ho detto sopra inerente l'equilibrio quindi un adeguato un nutrimento della mente e anche del fisico certamente porta poi a un equilibrio maggiore nel corpo nella mente insomma porta un equilibrio maggiore nella vita è una carta tendenzialmente positiva può significare tutto ciò che verte come ti ho già detto intorno alla pragmaticità quindi contratti quindi proposte lavorative quindi anche compravendite benefici fiscali insomma tutto ciò che riguarda quest'ambito qua ma anche la giustizia de facto se stai aspettando un divorzio come ti ho già detto è una carta che comunque volge abbastanza in positivo di contro può essere la carta dell'indecisione può essere la carta di chi prende tempo come sai non do verso questa carta la leggo sia in positivo che in negativo può essere la carta di chi non sa scegliere o può essere la carta magari di chi non vuole far evolvere una situazione o non vuole evolvere all'interno di una situazione quindi magari le persone un po assertive che possano arroccarsi un po su quelle che sono le loro decisioni quando anche siano palesemente decisioni ingiuste disarmoniche per la loro crescita però ti ripeto in generale anche la giustizia una di quelle carte che volge la sentenza del tarocco abbastanza in positivo dai vediamo sull'amore il matto il laffante di spade il 10 di coppe se hai pazienza se hai costanza verrai premiato verrai premiata le carte sono ottime il matto può essere un colpo di fulmine può essere un improvvisa decisione può essere anche un alternarsi di situazioni un po come se non si sapesse come orientare la propria vita affettiva anche se si fosse già in coppia potrebbe essere una coppia che conosce alti e bassi molto forti ma qui poi c'è un fante di spade quindi un qualcuno che comunque invitato alla moderazione la pazienza anche ad osservare una situazione che forse sta dando e non dando sia che tu sia in coppia sia che tu sia in una storia tormentata o che tu magari stia tentando di capire se qualcuno attorno a te può darti ciò che cerchi bene in questi casi sei sulla strada giusta il fante di spade un osservatore il fante di spade colui o colei che scruta prende nota osserva a volte anche tramite social ed è una figura che però forse potrebbe anche parlarci del fatto che questo mese di settembre nonostante tu sia invitato invitata a perseguire con determinazione i tuoi obiettivi perché comunque alla fine c'è un 10 di coppe quindi c'è un riconoscere uno stato di abbondanza anche sul livello sentimentale intorno a metà mese potresti essere un po demotivato demotivata magari se c'è un partner una partner o se c'è un qualcuno con cui sta nascendo qualcosa potresti essere un pochino appunto demotivato demotivata dal suo comportamento potrebbe avere dei segreti per te o anche cose non dette non segreti importanti anche cose magari dette a metà quindi giustificherebbe un po anche questo questa incostanza del matto è una diciamo una vicenda relazionale la tua se sei in coppia o se c'è già qualcuno a cui graviti intorno un po tormentata diciamo per i primi 15 20 giorni in realtà poi va a sciogliersi va a ritrovare anche diciamo che il 10 di coppe proprio il riconoscersi solo il riconoscersi qua può essere in due modi può essere il riconoscersi del merito di avere la costanza di stare in una situazione che siamo sicuri andrà bene o può essere il riconoscersi fra due persone quindi comunque qua ci si avvia la chiusura del mese con una eccellente gratificazione o comunque delle buone prospettive per il futuro nonostante un momento un po di instabilità e disconforto nei primi giorni del mese diciamo forse anche nei primi ti ripeto 15 giorni forse 20 è stato un po eccessivo più o meno metà mese ecco se non hai nessuno qua c'è una conoscenza c'è un qualcuno che ti sta scrutando c'è un qualcuno che sta osservando le tue mosse un qualcuno che in questo mese potrebbe prendere coraggio e palesarti si magari farti appunto un invito magari anche dirti i suoi sentimenti oppure c'è qualcuno che magari questo mese non avrà il coraggio di dirti qualcosa rimarrà un po nell'ombra ma è comunque un qualcuno che ha l'intenzione di palesarsi a te anche perché laddove il matto è una carta d'incostanza il fante di spade in questo senso diventa un po lo spione colui che osserva con lei che osserva che cerca di capire di valutare e il 10 di spade di basti di coppe scusami diventa la carta che ci fa prendere coscienza che sì si può fare si può si può avviare un discorso si può avviare una conoscenza si può proporsi per riuscire ad approfondire appunto quella che è una conoscenza fra due persone quindi qua c'è un qualcuno che potrebbe rivelarti in questo mese di settembre oppure magari potrebbe attendere un po perché questo mese il mese nel quale ti si rivela solo in pochi casi potresti avere una nuova conoscenza questo matto può essere anche un colpo di fulmine e anche in questo caso però potresti essere tu colui o colei che osserva nascostamente pensa di proporsi di palesarsi e anche in questo caso intorno alla fine del mese ti vedo comunque ben determinato ben determinata a farti riconoscere fra la gente fra le persone a proporti vediamo in ambito lavorativo ed economico che cosa vogliono dirti sull'amore credo che nonostante un primo periodo tormentato comunque il mese sia un buon mese e porti comunque un'evoluzione importante il sette di spade il sette di denari e il due di denari allora forse proprio in relazione a quella che è la carta della giustizia una carta che ti ripeto laddove nell'ambito affettivo porta un riequilibrio quindi ti porta a sistemare un po' una situazione che all'inizio non sai come potrebbe evolvere invece qua ti porta proprio ad un ripensamento su un qualcosa che è avviato ma che ti costa enorme fatica ti costa un pochino questo sette di spade non voglio vederlo come il classico conflitto sul lavoro ma potrebbe essere anche la pesantezza che caratterizza questo mese di settembre con questo sette di denari dopo che è un po' l'invito ad aprirsi a nuove soluzioni in alcuni casi potrebbe essere anche un problema che sorge sul lavoro il sette di spade è anche un disegno nascosto o un qualcosa che non sappiamo ed è un problema che ti ricade un po' addosso e che devi saper gestire questo due di denari parla del valutare un po' tutte le opzioni positive o negative le due facce della medaglia una carta che presuppone un pensare non usare la testa per dare una valutazione a quella che può essere una soluzione alternativa per riuscire a sistemare un qualcosa che o ti causa conflitto sul lavoro oppure magari è una notizia magari un cavillo magari un lavoro che devi rivedere insomma è un qualcosa che sembra non volerti far andare avanti un due di denari è la carta di chi comunque riesce a maturare una nuova visione delle cose riesce ad avere una nuova percezione quindi riesce anche ad andare oltre riesce anche a risolvere i problemi ma proprio perché perché un sette di denari lo ha messo l'ha messa in condizione di vedere un problema oppure un evento improvviso che si manifesta un po' da tutte le prospettive quindi nonostante anche qua all'inizio del mese ci sia questo sette di spade che arriva un po' come lo spadone di Damocle a rompere un po' le uova nel paniere qua c'è poi una o più possibilità di diciamo risistemare questo questo momento di di litigio in sul lavoro o magari di un qualcosa che appunto viene fuori e crea un po' di di incertezza e c'è il saper scegliere dopo un'attenta una corta valutazione anche se non hai un lavoro queste energie potrebbero effettivamente concretizzarsi in un qualcosa che magari ti viene nemmeno proposto qua potrebbe essere un qualcosa di cui viene a sapere un lavoro dove ti si dice ok qui cercano una tal figura qui vorrebbero una tal figura oppure magari è direttamente una comunicazione da un ente dall'ufficio del lavoro anche in questo caso secondo me è un mese dove devi perseverare devi cercare una soluzione alternativa e questo due denari ti va a dire che comunque questo passaggio nonostante non ti porti a trovare una soluzione lavorativa stabile oppure non ti porti direttamente una soluzione lavorativa in questo mese di settembre è comunque un qualcosa che ti crea le condizioni anche mentali per rimetterti in gioco in maniera migliore nel mese di ottobre nel successivo mese in effetti la carta del 7 di denari è una carta che guarda soprattutto alla possibilità di migliorarsi in modo sull'ambito materiale e la carta del 2 di denari può anche significare comunque uno spostamento per ciò che è la burocrazia però mi arriva verso fine mese quindi se opportunità di migliorare una situazione oppure magari opportunità proprio di trovare un lavoro che ci soddisfi ci sono ci sono più da fine mese in poi con questo 2 di denari che può rappresentare anche un colloquio di lavoro importante però prima qua c'è da superare appunto un ostacolo potrebbe essere anche che non arrivi nessun tipo di problema o nessun tipo di proposta ma che sia semplicemente un dovere un po' far quadrare le finanze qua a inizio mese e anche appunto trovare le risorse per riuscire a passare il momento senza grandi danni senza grandi scossoni cosa che poi ti ripeto succede con questo 2 di denari che è una accorta valutazione una nuova concezione diciamo dell'approccio al problema denaro o lavoro e anche un nuovo avviarsi verso quello che è comunque un ciclo o comunque un piccolo ciclo che si apre e che porta comunque beneficio nel tempo sono sempre carte di denari quindi sempre estremamente positive per quanto riguarda la materialità comunque eventuali colloqui di lavoro proposte li vedo più verso fine mese veniamo alle energie generali allora il 3 di coppe il 9 di spade il mondo allora è una vittoria schiacciante su un 3 di coppe in questo caso lo posso vedere veramente un po' come riferito se in ambito relazionale a questi inizi un po' incerto magari la persona di tuo interesse potrebbe avere altre relazioni altri giri potrebbe avere altre possibilità e questo non ti va proprio giù lo vedo comunque come un preludio ad una vittoria il 3 di coppe è una carta di vittoria nonostante sia una carta di pluralità di persone comunque sempre positiva per il consultante anche in questo caso nel lavoro dove c'è una sette di spade che apre con una persona che fondamentalmente si accolla un po' quelle che sono i problemi quelle che sono le incomprensioni se ne sente un po' responsabile con un 3 di coppe ci dice no dividi i meriti ma dividi anche i demeriti perché altrimenti rischi di accollarti un po' troppe responsabilità e un po' troppa magari frustrazione a inizio mese con un 9 di spade dopo c'è un senso latente un po' di sconfitta e potrebbe anche essere legata a questa notizia che arriva inerente alla gestione del denaro oppure inerente a un problema da superare sul lavoro oppure anche a questa prima instabilità a livello sentimentale quindi un mese dove alla fine riesce a battere i pugni con questo mondo e a mettere le cose in chiaro e a dare un po' un verso ad una situazione forse questo riconoscere del 10 di coppe finale è proprio il riconoscere la tua capacità di saper gestire gli eventi e anche come ti dicevo prima di avere caparbietà e pazienza per portare in fondo quelli che sono i tuoi obiettivi quindi un mese che tutto sommato non vedo così negativo anzi direi lo vedo abbastanza positivo perché abbastanza costruttivo c'è forse qualcosa che all'inizio può esserti nascosto o magari qualcosa che non sai all'inizio ed esce fuori a rompere un po' quelle che sono le tue aspettative ma tu sei ben capace di arginare il problema e ben capace di opporti a questa deriva e anzi di farla virare a tuo favore è un mese dove mostri tutta la tua natura arietina si conclude e non si conclude perché si conclude con un 10 di coppe quindi una grande abbondanza soprattutto a livello di affetti e di famiglia o anche comunque di amore in generale e non si conclude a livello lavorativo perché è un mese nel quale comunque fai un passaggio da una situazione un pochino di carenza o di problemi e ti orienti verso quella che è una situazione di crescita c'è sempre comunque una carta di mondo in fondo quindi il chiudere un periodo di incertezza e il volgersi verso quello che nel tempo sarà un trionfo bella lettura quindi amico amica dell'aria ti andiamo a vedere che cosa vogliono dirti le carte della strega per il mese di settembre la candela l'illuminazione vedi è un mese dove la tua fiamma interiore va proprio a rivendicare di poter illuminare quella che è la tua via senza che altri debbano decidere oppure senza che gli imprevisti del momento debbano decidere di orientare le tue scelte la tua via la candela è un segno che invita infatti a confidare in se stessi magari ti potresti sentire o ti sei sentito sentita di recente stressato sfinito magari anche dalle richieste pressanti delle altre persone tuttavia devi essere certo certa che i tuoi sacrifici saranno non solo ricompensati ma sono compiuti per un fine più alto e quindi la tua vita prenderà a brillare ci dice la carta della candela candela la candela può anche indicare che magari sei vicino vicina ad esaurire le forze quindi ti invita anche a a non farti sfuggire la situazione di mano a centrarti su te stesso su te stessa a gestire al meglio le tue energie infatti lo farai riconoscendoti meriti e demeriti come ho detto prima e avviandoti verso quello che è un approccio nuovo a questa situazione qua radicati con regolarità e misura gli sforzi dice la carta è vero sei un ariete una carta un segno molto dinamico molto energico però c'è anche bisogno del riposo di contemplazione ti saranno di grande aiuto c'è bisogno di fare come il cellulare che ogni tanto lo mettiamo sotto carica devi fare così anche tu deve stare un po sotto carica anche pochi giorni anche un weekend per dire un sabato una domenica non tirare troppo la corda dice la carta la luce interiore ti sarà guida questo è il mantra della carta direi che comunque è una bellissima lettura e tra l'altro almeno per come l'ho percepita io mentre la stavo girando mi sembra che sia una lettura che risponde benissimo alla grinta che caratterizza il tuo segno amico amica dell'ariete io ti auguro un bellissimo mese di settembre e ti ricordo come ricordo a tutti gli altri segni che i video per i segni zodiacali riprendono dal lunedì ciao ciao